Ciao ragazzi, siamo Emilio Sì Oggi Ho riaperto Dopo un Cioè tantissimo Tantissimo tempo il canale E oggi Sì, se non devo parlare più Ad alta voce E oggi Sto vedendo una cosa E poi ci lasciamo Sto scherzando, sto scherzando Oggi andremo a giocare A Stickman Che è Un gioco Quindi Ok, ora devo girare Cioè non Un cuscino magari Un cuscino 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 Stando così Cioè stando così Con la mano Si occupa tutto Tutta la Tutta la Tutta la webcam Un cuscino Quindi andremo a giocare Non riesco a giocare A King Tago Ma tutti giochi così Un cuscino Un cuscino Un cuscino Un cuscino un cendro e accolto piano la piacolata lo schuzzano e le piacere sarò più piccolo non si e il mio destro è immersato ora ancora E' un'altra cosa che c'è un'altra cosa E' un'altra cosa che c'è un'altra cosa C'è un'altra cosa che c'è? E' 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 un'altra cosa che c'è? C'è? E' un'altra cosa che 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 c'è? E' un'altra cosa che... E' un'altra cosa che c'è? 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 c'è la giuda ecco vedi ci imbrosciano non è Perchè? E' un abismo il pollo! Perchè? Perchè? Ok... Perchè? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.